Il rumore della guerra nelle orecchie, la speranza di un futuro diverso nel cuore. Olena è partita dall'Ucraina lo scorso febbraio per raggiungere l'Italia, con lei suo figlio Dimitro, di soli otto anni. Il bambino è affetto da una grave malattia i reni e la sua situazione è molto delicata. Ricoverato prima all'ospedale di Bojarca, città situata tra Chieve e Cernobil, le sue condizioni si sono aggravate giorno dopo giorno. Con l'arrivo dei bombardamenti, Dimitro è stato tra i primi ad essere trasferito, così lui e mamma Olena sono arrivati in Lombardia grazie al supporto dell'associazione Apri A di Albizzate. Dopo un primo ricovero all'ospedale di Varese, il bambino è stato trasferito a Milano, alla clinica dei Marchi, specializzata nel trattamento dei reni. Qui le cure hanno cominciato a fare effetto e il piccolo ha iniziato a stare meglio. Il bambino è iniziato a gonfiarsi, volevano controllare i polmoni, volevano controllare i reni, non si capivano cosa si sta succedendo e alla fine lui è arrivato in ospedale di Bojarca. In ospedale è stato un mese e mezza, è stato sempre sotto le cure e quando è iniziata la guerra ha evacuato tutto l'ospedale, quindi sono arrivati a Varese il 14 febbraio. Subito dopo che sono arrivati a Varese il bambino è stato male, la situazione si è peggiorata e praticamente lo hanno portato con i loro trasporti da un ospedale all'altro, dopodiché il bambino è entrato in coma. Dopodiché le hanno consigliato di portare il bambino a Milano in ospedale qua dove è stato trasportato e dove si trova adesso. Adesso è uscito da coma ma la situazione è comunque ancora molto pesante. Dobbiamo tutto all'Italia, dice mamma Olena, qui abbiamo trovato le cure giuste. È veramente stata una salvezza per il bambino che lui è stato portato qua in Italia dove hanno scoperto la sua vera malattia. Olena è ora aiutata e coccolata dai volontari dell'associazione Apri Adi Albizzate. È stanca, fragile, in pensiero per il piccolo Dimitro ma anche per tutta la sua famiglia rimasta in Ucraina. Noi non vogliamo lasciarla sola, dice il tesoriere dell'associazione Vincenzo Lamonica. Siamo alla ricerca di un appartamento per quando il bambino verrà dimesso dalla clinica. Noi stiamo cercando un appartamento per due mamme con due bambini. I due bambini ricoverati a Varese perché hanno fatto il viaggio insieme e si sono conosciuti in questa situazione non bella e di conseguenza non vogliamo staccarli e finché hanno bisogno di cure resteranno qua in zona da noi con il nostro aiuto sia economico che il vitto e l'oggio.